Questi risultati per quello che riguarda Città di Castello delle ultime elezioni regionali nelle 54 sezioni che ha il Comune Tifernate. L'Umbria per un'altra Europa 278 voti, l'1,65%. Il Partito Democratico 6.663 voti, il 39,48%. Umbria più uguali e sinistra Ecologia e Libertà, 194 voti, l'1,15%. Socialisti, Riformisti, Territori per l'Umbria, 1.002 voti, il 5,94%. Iniziativa per l'Umbria Civica e Popolare, 68 voti, lo 0,40%. Sovranità, prima gli italiani, 62 voti, lo 0,37%. Casa Rossa, Partito Comunista dei Lavoratori, 48 voti, lo 0,28%. Forza Nuova, 39 voti, 0,23%. Lega Nord, Umbria e Salvini, 3.162 preferenze, 18,73%. Ricci, Presidente, 208 voti, l'1,23%. Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, 1.154 voti, 6,84%. Cambiari in Umbria con Ricci, 155 voti, 0,92%. Per l'Umbria Popolare con Ricci, 158 voti, 0,94%. Forza Italia, 1.249 voti, 7,40%. Movimento 5 Stelle, 2.307 voti, 13,67%. Alternativa Riformista, 131 voti, 0,78%. Votanti sono stati 18.445, il 56,96%. I voti validi, 16.878, il 91,50%. Solo per il Presidente, 617 voti, il 3,35%. I voti non validi sono stati 950, di cui 315 bianche, l'1,71%. 635 nulle, il 3,44%. Che tipo di campagna elettorale è stata questa? La più brutta alla quale ho partecipato. Brutta per il clima all'interno del quale ci siamo trovati come paese, come territori, come cittadini. Un clima di difficoltà economica, di pesantezza, perché poi quando incontri i cittadini vale poco che magari negli anni si è riuscita anche a risolvere problematiche consistenti per alcuni settori a portare risorse importanti per i territori, a risolvere anche questioni annose, quando poi ognuno la sera all'interno della propria famiglia fa i conti con il fatto che le risorse sono meno, il lavoro non sempre è sicuro e duraturo e la tassazione in questa fase sicuramente mette in difficoltà di più le persone. Una campagna elettorale difficile perché in questo caso non c'era un avversario politico, c'era un po' un nemico che era il qualunquismo, l'indifferenza, alle volte anche una certa allergia alla politica, a chi fa politica e questo frutto anche del fatto che in questi mesi, in questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori a livello successo, a livello nazionale. In bocca al lupo a Mancini, Città di Castello esprime di nuovo, in consiglio regionale di nuovo, prima veramente eravamo in tre, due rappresentanze, quindi un in bocca al lupo a Mancini e a dire la verità anche credo un ringraziamento anche da cittadini, da Tifernate, ad Andrea Lignani Marchesani perché tra me e Andrea naturalmente ci sono stati anche momenti di sconto, di confronto duro, come è logico e normale che ci sia tra rappresentanti di schieramenti diversi. Però riconosco che in questi anni, in tutti questi anni, ogni volta che c'è stato da difendere gli interessi di Città di Castello e dell'Alto Tevere, Andrea Lignani è sempre stato molto generoso.